reparto attenti presentat arm onori al comandante della legione carabinieri umbria picchetto d'onore e rappresentanze del comando provinciale carabinieri di perugia con fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo pronti per la rassegna sono molto soddisfatto e contento che mi abbiano invitato intanto perché questa è una caserma che conosco da tanto tempo dalla destinazione precedente poi perché da comandante generale ho avuto l'opportunità di inaugurare qui alla presenza del presidente della repubblica il nucleo di tutela patrimonio culturale che appunto abbiamo costituito in quella circostanza per rafforzare ulteriormente sul territorio questa nostra specialità invidiata da tutti e poi perché in questo stesso edificio già quel giorno abbiamo pensato che si potesse realizzare la nuova sede della stazione forte braccio io ricordo bene quando negli anni primi anni 80 comandante della compagnia di perugia e andavo a visitare la stazione di forte braccio che era in via corrotta numero due e praticamente in una stazione in un edificio che era abbastanza vecchio faticente inadeguato poi ha trovato altra collocazione ma doveva essere una collocazione provvisoria questa è una collocazione di alto prestigio e penso definitiva una sede prestigiosa per l'arma che rafforza il presidio nel centro della città